Diciamo che il cambio d'assetto ha aiutato un po' tutti, nel senso che comunque soprattutto nella fase di non possesso siamo riusciti a essere un po' più aggressivi, siamo riusciti a morire un po' di più l'avversario quindi tante volte loro hanno dovuto soprattutto nel primo tempo lanciare palla in avanti poi magari nel momento in cui giocavano e andavano da una parte all'altra comunque eravamo messi abbastanza bene per poter sopperire alle difficoltà insomma Volpicciaglia ha fatto una grande partita quindi insomma comunque qualche volta è normale essere andati anche in difficoltà ma sicuramente siamo stati più aggressivi, siamo riusciti anche a intimorirli di più il risultato penso che l'abbia anche dimostrato perché nel momento in cui recuperavamo palla siamo stati più pericolosi infatti il quarto gol di Muroni è stato viziato da un recupero palla, una verticalizzazione e insomma in poco tempo siamo riusciti ad arrivare là davanti sicuramente ci ha dato una mano questo modo di interpretare la gara secondo me il Matelica non si aspettava questo atteggiamento anche da parte nostra quando sono io qua a Modena questa è la terza partita insomma il bilancio credo che bisogna farlo insomma anche sulla partita tra estina dove anche lì hai creato tantissimo e purtroppo non sei semplicemente riuscito a concretizzare quindi con la tra estina non scordiamoci che abbiamo beccato due pali abbiamo creato un sacco di occasioni, l'unica partita dove abbiamo avuto qualche difficoltà proprio a livello di costruzione è stata Ravenna ma le azioni da gol le avevamo create anche contro la tre estina parecchie quindi insomma questo giro invece si è riusciti a concretizzarle e quindi credo che comunque è vero che bisogna guardare anche lo spessore della squadra di fianco ma non scordiamoci che loro erano comunque uno dei migliori attacchi insomma del girone cioè avevano qualità quindi siamo stati bravi a gestire tutte e due le fasi beh diciamo che il mister dà insomma un paio di nomi per chi deve battere il rigore e le varie insomma calci piazzate e tutto fondamentalmente poi la palla mi è cascata proprio sui piedi a me dopo il fallo fatto su Spagnoli e onestamente sì me la sentivo di tirarlo anche perché comunque in stagione anche a Legnago stavo tirando e insomma io ero uno dei due rigoristi insieme a Tulisi quindi insomma la sono sentita io beh credo che parlando del Padova sicuramente si è rinforzato parecchio lo sta dimostrando e sta vivendo un momento di forma importante e quindi sicuramente sono in fiducia io credo che il Modena in questo momento qua soprattutto debba guardare a risolvere le proprie cose guardarsi in casa quindi paradossalmente la classifica in questo momento qua per quanto importante io non la sto guardando sicuramente stiamo giocando per stare là davanti ma non la sto guardando e sono più concentrato su quello che dobbiamo fare per stare là davanti quindi cerco di guardare ogni giorno cosa possiamo fare per migliorarci